Benvenuti all'edizione italiana del Torino Web News dedicata al mondo arabo. Ecco a voi le notizie di oggi. Chi è diventato o diventerà mamma e papà durante il triennio 2009-2011 potrà richiedere un prestito a tassa agevolato di un massimo di 5.000 euro presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che avranno aderito a questa iniziativa governativa e il cui elenco è presente nella sezione Banche e derenti. Per ulteriori informazioni consultate il portale di Torino in arabo. 13 febbraio, giornata nazionale per la raccolta del farmaco. Ogni anno, il secondo sabato di febbraio, ha luogo la giornata nazionale della raccolta del farmaco. Il tuo contributo concreto e immediato è importante. Lo scopo della Fondazione Banco Farmaceutico ONNUS è aiutare le persone indigenti rispondendo al loro bisogno farmaceutico attraverso la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano localmente al fine di educare l'uomo alla condivisione e alla gratuità. Un'ondata di rimborsi inarriva nelle tasche degli italiani. L'Agenzia delle Entrate ha disposto quasi 800.000 rimborsi per un ammontare complessivo di circa 940 milioni di euro che stanno arrivando a famiglie e imprese. L'Agenzia delle Entrate non chiede mai le coordinate bancarie o altri dati sensibili via e-mail e invita pertanto i contribuenti a prestare particolare attenzione al rischio di truffe. Si sono verificati, infatti, diversi tentativi di frode attraverso l'invio ai contribuenti di messaggi e e-mail falsamente attribuiti all'Agenzia delle Entrate con i quali si chiedono le coordinate bancarie con la scusa del pagamento dei rimborsi. L'Agenzia, a tutela dei cittadini, ha già avviato tutte le iniziative per individuare e perseguire i responsabili dei tentativi di frode. Porta aperte è un progetto che si propone di offrire percorsi integrati di inserimento sociolavorativo per le donne vittime della tratta. L'iniziativa prevede la creazione di un'associazione temporanea di scopo finalizzata all'avviamento al lavoro di 15 donne sfruttate vittime di tratta ed è stato finanziato nel novembre 2009 dalla Regione Piemonte con uno stanziamento di 149.460 euro. Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Torino in lingua araba. Per quest'oggi è tutto. L'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.